Tanti messaggi di solidarietà al governatore siciliano Nello Musumeci dopo il ritrovamento di un pacco con all'interno un ordigno rudimentale ed una lettera di minacce. A Catania si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Sentiamo Antonello Carbone. Ha una tipologia un po' differente rispetto a quelle che erano gli atti che si erano verificati precedentemente, quindi questo richiede un'attenzione particolare. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza riunito in prefettura Catania conferma il rafforzamento delle misure di protezione del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo il ritrovamento di un rudimentale pacco bomba e di una lettera minatoria nella stazione di Militello Val di Catania, suo paese di origine, in un'area difficilmente accessibile lungo la strada ferrata. Si è determinato sulla base di una individuazione di un guasto. Il guasto ha fatto sì che sul posto si recassero la Polizia Ferroviaria degli organi delle forze dell'ordine e quindi è stato rinvenuto l'ordigno. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Caltagirone. L'ordigno poteva essere micidiale in caso di esplosione, è stato poi fatto brillare in sicurezza. Già in passato nella stessa stazione erano stati tagliati dei cavi della rete elettrica e rinvenuto una pistola giocattolo con cartucce e minacce pure al sindaco. Solidarietà al presidente Musumeci è stata espressa dalla giunta regionale e da tutti i partiti politici.